Tantissimi, troppa gente ha ricevuto dischi d'oro e dischi di platino, questo non solo gente che magari non se lo merita perché non siamo nessuno per dirlo, ma anche gente che non fa musica, no? Tutti gli effetti, sì, esatto. Voi cosa pensate di questo? Beh, fondamentalmente ci sono aspetti positivi e aspetti negativi legati a questo. Gli aspetti positivi è che chiaramente un rep che macina certificazioni, un rep che è più interessante per gli investitori, è più interessante per i media, crea attenzione. Comunque queste siano ottenute, questo è senz'altro l'aspetto positivo, finché il rep tira noi non possiamo che essere contenti. Certo, cioè tu dici che avendo le certificazioni... Esatto, è una maggiore cassa di risonanza, per quanto senza dubbio il problema fondamentale è che si finisce per dare una visibilità diffusa e vengono fuori poche personalità carismatiche sostanzialmente.